5 60 ritarda di 1 più tornante e ho 4 più 10 di 5 60 di 2 lunga 30 ritarda poco ho 2 più lunga continua ritarda 4 meno vai in D5 diventa 40 anticipa 2 vai 20 ritarda poco ho 3 più vai 80 ritarda ho 1 tornante e anticipa di 3 30 vista frena ho 4 meno tac tieni per D1 più tornantone e ho 4 meno tac in D4 tac tieni per O3 più tac vai 40 ritarda ho 1 più tornante per D3 più tac in O4 e D5 tac diventa 40 ritarda poco 1 tornante 60 vista ho 3 meno chiude 30 ritarda molto ritarda molto D2 lunga vai 70 ritarda poco O4 O4 60 da qui attento ritarda O4 meno chiude per D5 lunga e O5 più 30 stai D posso O7 10 attenzione D5 più tac in O4 meno chiude in D5 meno e attenzione O4 meno lunga 10 attenzione di 4 meno tac fai per attenzione O4 tac diventa 10 4 chiude tac in palla D3 tac in O tac condosso apre 5 più 150 attenzione frena addosso O4 più chiude tac tieni per D3 lunga in stretto O3 chiude tac in D4 meno 10 O chiude palla 3 meno vai 80 ritarda nu D1 più lunga e ritarda O3 più chiude 50 ritarda poco O4 meno in D5 tac 10 dosso O7 20 attenzione D4 però 4 meno chiude tac per D5 su 40 chiude 3 meno chiude 20 ritarda molto O chiude 3 meno chiude vai 80 di di 4 di 4 tac 30 anticipa O4 più lunga 20 di 3 meno vai 10 10 10 O3 meno e di 1 più lunga per ritarda O2 meno lunga nu e e di 3 e di 3 100 dosso O4 più su 20 dosso O4 più su 20 chiude 3 più 30 O4 più tac in D4 più 40 dosso dritto 30 O7 su dosso diventa 60 vista attenzione 4 chiude tac in ritarda D4 vai 20 stretto ritarda O3 più continua 3 più tac vai stretto continua 4 meno tac in dosso muove D4 su 10 chiude ritarda 2 e dosso D4 più tac 20 dosso dritto per ritarda D3 chiude tac in ritarda O2 meno vai 10 ritarda D4 diventa 20 ritarda 3 meno lunga vai e ritarda O1 meno tornante 20 o3 più vai e D3 meno lunga vai 80 D tac 70 attenzione frena molto Tosso O4 più su 20 in balla Nudi 1 più tac e O2 vai 50 D4 più chiude però O4 più su 30 chiude ritarda molto 3 più chiude per D3 più vai per O3 più tac tieni e D2 più 20 dosso dritto e O4 meno chiude 10 D3 meno lunga e O3 20 O3 meno chiude in ritarda D2 più lunga chiude e O1 20 ritarda poco D3 più vai apre 4 su 30 chiude ritarda 2 più vai in O4 più tac 60 arrivo a l'anima l'anima